Presidente, un numero verde, nove mesi già di attività, qual è il bilancio a sostegno delle persone che poi devono vaccinarsi? La gente vuole sapere, vuole conoscere, naturalmente trovare un esperto che possa dare risposte qualificate ed estremamente specialistiche ai propri dubbi, ai propri interrogativi è fondamentale. Molte persone sono ignoranti, non sanno, hanno un grado di superficialità e vogliono qualcuno che sappia rispondere in modo opportuno e in modo molto preciso alle loro domande. È un grandissimo successo e questo si dimostra che informando bene le persone la gente si vaccina. Questo numero verde sarà a disposizione anche dei genitori che potranno vaccinare i loro figli, ricordiamo fascia 5-11 anni dal 16 dicembre. Questa è un'altra grande scommessa e io dico a tutti quanti e a tutti i genitori di rivolgersi al proprio pediatra con grande fiducia perché loro conoscono i bambini. Penso che i bambini naturalmente non devono avere alcuna paura, almeno ovviamente i loro genitori, perché i bambini sono quelli che si vaccinano di più. Abbiamo sconfitto malattie importanti come la poliomenite che non esiste più, il vaiolo e soltanto così possiamo affrontare questo mostro che è il Covid-19. Bisogna affrontare anche ancora questa tappa per poter cercare di avere una vita quasi normale in modo tale che tutti possono ritornare al più presto in una vita assolutamente adeguata. Presidente, abbiamo già un esempio nel mondo, ci sono milioni di bambini vaccinati, Stati Uniti, Canada, Israele, quindi possiamo guardare con fiducia questa vaccinazione anche per i bambini. Assolutamente sì, l'ho detto, quando si dice che i numeri sono molto bassi, io dico che l'esperienza che si è fatta in quest'ultimo anno nel Covid-19 ha dei numeri altissimi. Per i bambini naturalmente ci sono state le validazioni degli enti regolatori, quindi parlo di AIFA e di EMA, quindi su questo dobbiamo essere sereni e i genitori si devono rivolgere al proprio pediatra e se hanno qualche dubbio, il numero verde è pronto a rispondere loro così. Presidente, possiamo ricordare il numero verde perché è importante informarsi attraverso fonti qualificate e non magari su internet dove ci sono tante fake news? 800 95 44 27, qui risponde un medico vero, non il dottor Google, quello che noi siamo abituati a chattare su internet, è un medico che vi saprà dare le risposte precise e sicuramente a livello a quello che voi avete bisogno. La vaccinazione dei bambini è importante anche per continuare la scuola, molte classi sono in quarantena e noi non dobbiamo tornare indietro. Se vogliamo abbandonare completamente la DAD che è stata sicuramente una parentesi ma non è una parentesi felice e vogliamo ritornare alla collegialità, alla presenza e alla socializzazione, questa è una delle vie che dobbiamo perseguire naturalmente con le precauzioni che dobbiamo ricordare, che il distanziamento, che le mascherine che non dobbiamo mai perdere di vista perché questo è l'unico modo per poter frenare questo mostro. Grazie. Grazie.